un saluto a tutti mi chiamo silvana ho 52 anni sono un'impiegata commerciale e mi piace molto cucinare e fare dei dolci l'ho sempre fatto amatorialmente non ho mai seguito corsi di cucina non ho mai seguito corsi di pesticeria ho sempre fatto le ricette guardando dai libri come si faceva una volta perché comunque 52 anni vuol dire che all'inizio noi abbiamo utilizzato i libri poi ci siamo evoluti e abbiamo iniziato comunque a guardare le trasmissioni televisive a cercare sui social e devo dire che i risultati che ho ottenuto non sono male insomma ho imparato a fare tante cose e ce ne sono alcune che mi vengono anche abbastanza bene non dico non sono perfetta perché non lo sono mai stata mi piace provare e soprattutto spesso e volentieri io cambio le ricette a modo mio me le personalizzo perché mi piace magari fare cose nuove cercando in internet non mi ricordo quale ricetta mi sono imbattuta nel su youtube nello chef andrea di giglio ho iniziato a guardare i suoi video e devo dire che mi sono piaciuti molto perché lo chef ha un modo di spiegare veramente meraviglioso mi sono appassionata quindi a quello che diceva alle ricette che faceva e per curiosità sono andata a vedere nella sua accademia i corsi che proponeva lì per lì devo essere sincera era un po titubante penso come tutti anche perché non avendo mai fatto corsi ma mi servirà non mi servirà fondamentalmente sono già abbastanza brava non è che mi serva tanto poi comunque ho guardato le recensioni che hanno fatto anche altri altre persone che come me l'hanno acquistato e mi sono fatta convincere allora ho chiesto a mio marito un regalo per natale e mi devo dire che da subito mi è piaciuto tantissimo approcciarmi al mondo dell'accademia di giglio è un mondo molto particolare perché non è fatto di sole ricette ma è fatto di spiegazioni e spiegazioni che ti insegnano e ti fanno capire il perché delle cose e perché soprattutto le volte le ricette non ti vengono e le sbagli e ho iniziato anche a seguire le dirette sui social io le seguo su instagram e mi è piaciuto appunto anche il fatto che lo chef si mette a disposizione di tutti sia corsisti che non da spiegazioni ed è sempre molto disponibile oltretutto nella sezione dei corsi c'è un'apposita puoi chiedere informazioni puoi chiedere assistenza e in brevissimo tempo ti viene risposto logicamente non subito però in tempi molto brevi mi è capitato anche di contattare Fiorella telefonicamente che Fiorella si occupa appunto dell'assistenza e mi sono trovata a parlare con lei come se parlassi con una vecchia amica disponibilissima molto gentile e mi ha spiegato alcune cose e devo dire sono rimasta proprio soddisfatta quindi non contenta del corso base non perché non del corso ma perché mi sembrava poco ho acquistato anche il corso pasticceria da forno anche quello un corso molto bello è bello vedere fare le ricette e la spiegazione del perché vengono fatte ho già provato a fare alcune cose che mi sono tra l'altro venute e per le quali mi hanno fatto veramente complimenti tutti quanti io ringrazio i miei colleghi di lavoro e i miei parenti più vicini che hanno la possibilità di assaggiare i miei esperimenti e devo dire che da quando ho iniziato a fare il corso mi hanno detto che la differenza si sente si vede e anche nella diciamo nel modo di proporre il dolce poi ho scoperto sempre seguendo le dirette di instagram che era in uscita questo nuovo corso sui bilanciamenti potevo farmelo sfuggire no non è per non sono non sono capace quindi ho acquistato anche il corso dei bilanciamenti e ho appena iniziato a guardare e devo dire che già nelle prime lezioni mi sta appassionando tantissimo non sono una appassionata di matematica sono convinta che prima o poi dovrò impegnarmi un po di più per cercare di capire appunto il perché di queste cose ma lo chef è talmente bravo nelle spiegazioni che sono sicura riuscirò anche a capire tutti i passaggi matematici matematici che verranno fatti per determinate cose quindi datemi retta fatevi un regalo fatevi fare un regalo regalatevi un corso dell'accademia di giglio e vi dirò di più sono come le ciliegie uno tira l'altro non penso vi fermerete a uno farete come me io da uno sono arrivata già a tre avendo la possibilità avrei già preso tutti quanti i corsi però devo fare un po per volta come tante persone purtroppo dobbiamo gestire le entrate e quindi intanto inizio con questi e poi successivamente vedrò di prendere appunto i corsi restanti quindi come vi dicevo non fatevi sfuggire questa occasione fatevi questo regalo fatevelo fare ma seguite i corsi dell'accademia di giglio io sono sicura che come me ne resterete veramente soddisfatti e inviterete altre persone a intraprendere questo meraviglioso percorso con lo chef andrei di giglio grazie a tutti per l'attenzione e spero ritrovarvi nei corsi e nelle dirette ciao a tutti